Buongiorno amici! Allora, come vedete oggi sono a casa, non sono in università perché il mercoledì è il day off dalle lezioni, non ho mai lezione tranne alcuni casi particolari e guardate un po' con chi sono qui esatto, proprio con lui, dato che lo studio non va in vacanza e sono in realtà un po' in ritardo sulla mia tabella di marcia ma questo è un altro problema, un altro discorso oggi, notiziona, non vi tedierò solo con le storie dell'università dove un mila minuto e basta fondamentalmente ma vado questo pomeriggio insieme a un soggettone avrete già tutti capito chi è cioè, dai, è un lui, quindi chi potrà mai essere a fare le foto nei campi di zucche e non vedo l'ora, uno perché amo le zucche, sono buonissime poi, raga, che vibes danno, super autunnali e niente, non vedo l'ora di scattare queste foto e di postarvele questa sera quindi questa sera un nuovo post con le zucche grazie a tutti